Queste sono le nuove Dynafit Ultra DNA, una scarpa che purtroppo per me mi ha fatto venire tantissime vesciche. Adesso insieme vediamo il perché all'interno della recensione completa. Inizio come al solito dalla suola di queste nuove Ultra DNA, perché qui troviamo una suola Vibra Mega Grip con tecnologia Light Base e un tassello da 3.5 mm. Una suola abbastanza classica che va veramente bene su tutta la parte di sterrato, single track, roccia va molto bene, anche lì anche roccia bagnata, il Mega Grip svolge sempre un ottimo lavoro, dove ha un grande limite sul fango perché troviamo un numero veramente basso di tasselli, anche molto ampi, quindi vi assicuro che sul fango si scivola parecchio. Però tutto quello che è asciutto e anche roccia bagnata lì tiene veramente molto bene. E poi mi piace sempre che la suola di queste Dynafit corra da tacco a punta senza avere punti dell'intersuola esposti. Passando invece alla parte dell'intersuola, qui troviamo una prima novità perché troviamo un'intersuola con una tecnologia Speed Plus. Una nuova tecnologia di Dynafit, una tecnologia che in questo caso è veramente molto reattiva. Vi assicuro potrete correrci a dirittimi folli con queste scarpe e vi accompagneranno veramente bene. Un'amortizzazione invece abbastanza secca, abbiamo comunque una buona parte di amortizzazione perché parliamo di un 35 mm d'altezza sul tallone, 27 mm sull'avampiede, quindi un drop 8. Quindi l'amortizzazione comunque c'è, però vi assicuro che è una scarpa questa pensata per spingere, per spingere e per andare veloci. Un'intersuola poi che nella parte anteriore presenta anche un rock plate in modo tale a proteggerci un pochino dalle rocce, dagli spuntoni che potremmo trovare correndo magari su qualche roccetta. Passando invece alla parte superiore della Tomaya, inizio dal puntale perché qui troviamo un puntale veramente destrutturato. Un puntale che se sfiorate o prendete a calci una roccia il male lo sentite. Quindi da questo punto di vista magari facciamoci un pochino d'attenzione. Tutta la parte di Tomaya poi è veramente molto destrutturata ma anche molto traspirante. Una Tomaya che ci permetterà di poter utilizzare queste Dinafit anche nelle giornate estive più calde. Una Tomaya comunque molto resistente perché ha una trama veramente molto fitta, una trama che ci permetterà di poter utilizzare queste scarpe a lungo. Però comunque vi dicevo molto molto destrutturata. Quindi anche qua se dovreste strusciare contro qualche roccia, contro qualche radice potreste sentire un pochino male. Diciamo una Tomaya veramente tanto resistente ma solo per pochi. Arriviamo infine al punto dolente di questa scarpa, ovvero da parte di tallone e allacciatura. Il tallone in sé è veramente poco poco imbottito. Ha un'imbottitura veramente bassissima, pensate che nella parte proprio finale, posteriore, praticamente non c'è imbottitura. E questo potrebbe anche non essere un problema. Il problema si presenta nel momento in cui l'allacciatura non svolge bene il proprio lavoro. Perché questo è il vero punto debole. Infatti troviamo un'allacciatura composta da due tipi diversi di lacci. Infatti Dinafit la chiama Double Speed System. E in questo caso il problema è che l'allacciatura tende ad aprirsi. Io l'ho allacciata, l'ho stretta veramente tantissimo. E nonostante ciò, dopo magari dieci minuti, un quarto d'ora che ci correvo, l'allacciatura tendeva ad aprirsi. Il piede iniziava a salire, a muoversi quando andavo a spingere e il tallone strusciava contro la scarpa. Ed ecco qua che ho fatto tutte le uscite e che sono tornato a casa con tante tante vesciche. Diciamo che un tallone di questo tipo non sarebbe neanche un problema se l'allacciatura invece fosse buona. Perché comunque anche a livello di stabilità non è malaccio, qualche roccetta la si può anche fare. Il problema è davvero questa chiusura dell'allacciatura che praticamente dopo dieci minuti, un quarto d'ora che corriamo tende un po' a mollarsi e il piede all'interno inizia a ballare. La soluzione sarebbe quella di fermarsi ogni dieci minuti, quarto d'ora a stringerle un'altra volta. Però questo vorrebbe dire veramente perdere troppo troppo tempo. Per quanto riguarda invece la linguetta, qui non abbiamo una vera e propria linguetta perché abbiamo una costruzione a calzino. Una costruzione che va a chiudersi molto bene attorno al nostro piede, che evita anche l'ingresso di eventuali sassolini e detriti. E da questo punto di vista questa costruzione a calzino mi è piaciuta. Però secondo me il laccio veramente era una cosa che da un certo punto di vista è fatta bene perché comunque la scarpa si chiude molto bene anche sull'avampiede. E mi piace come si chiude proprio la zona dell'avampiede. Però proprio il sistema che tende a chiudere i lacci, quello si smolla troppo facilmente. A livello invece di granezza dell'avampiede, essendo una scarpa anche pensata per le ultra, devo dire che di spazio ce n'è abbastanza. Una scarpa che non definirei troppo larga, una scarpa diciamo dall'avampiede abbastanza normale. Un pochino più grande magari rispetto all'avampiede strettissimo che sono stati abituati di Dinafit. E il quale personalmente io non ho neanche avuto bisogno di prendere mezza taglia in più. Arriviamo però a capire a chi consiglio queste Dinafit Ultra DNA perché queste sono delle scarpe secondo me per atleti che viaggiano, per atleti che vanno veramente forte. Per atleti che hanno anche una buona struttura muscolare che riescono a portarle molto bene. Ma diciamo che se non siete atleti che puntano a fare classifica, a vincere una gara, a veramente viaggiare a ritmi alti, allora magari non sono le scarpe per voi. Dal punto di vista del terreno invece diciamo che potreste utilizzarle un pochino ovunque. Tenderei a lasciar fuori tutta la parte di tecnico o troppo tecnico perché lì è una scarpa abbastanza alta che a livello di stabilità fa il suo ma non è così stabile. Quindi diciamo che tutto quello che invece è sterrato, single track, va veramente molto molto bene. E a livello di gare e come distanza, beh, possiamo farci anche una 160 km. Un classico UTMB per esempio andrebbe veramente molto molto bene. Arriviamo infine alle conclusioni per queste Dynafit Ultra DNA perché Dynafit le vende a 200€, l'anel si trova già sui 170-180. Ve le consiglio, per la mia esperienza personale direi di no. Perché io vi assicuro tutte le uscite che ho fatto con queste Dynafit sono tornato a casa sempre con vesciche. Sempre, sia sul piede destro che sul piede sinistro. Quindi almeno che Dynafit non vada magari a migliorare un pochino quello che è il sistema di chiusura, in quel caso no. Perché altrimenti, come vi dicevo, dovreste fermarvi anche voi ogni 10-15 minuti a doverle riallacciare per evitare appunto le vesciche. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esaurante e esaustiva anche per questa recensione. Vi ringrazio per averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!